Incontro dibattito oggi nei locali dell'Istituto Comprensivo Enrico Mattei di Gela. I ragazzi hanno affrontato i temi della misericordia, del dialogo, della giustizia, della legalità, della disponibilità nell'aiutare il prossimo, della forza, della gioia e della speranza, condolino di Dio. Impegnato a Gela soprattutto con gli ultimi e nominato da sua Santità Papa Francesco, missionario della misericordia. L'incontro che si è concluso con una preghiera è stato coordinato da Don Emiliano Di Menza, parroco della chiesa di San Giuseppe di Niscemi e insegnante di religione. Noi però ancora una volta ribadiamo che i nostri valori, i valori di un cristianesimo millenario, sono importanti. Non sono importanti in quanto solo valori religiosi, ma sono dei valori che permanono la vita di ciascun individuo. Questo è il messaggio che noi vogliamo lanciare oggi in presenza di Don Lino, riflettere sulla misericordia, il cuore che si fa misericordioso nei confronti di chi ha meno di noi, in un momento difficile per la città di Gela ma per l'Italia. E' questo il messaggio che noi vogliamo lanciare ed è questo che i nostri ragazzini devono portare a casa ai loro genitori. Don Lino, in fondo la misericordia è assolutamente aperta e più piccoli perché Gesù stesso nella sua vita ha dedicato gran parte della sua attività spirituale e umana ai bambini e ai ragazzini. Ebbè Gesù stesso dice che dobbiamo farci piccoli e soltanto ai piccoli è possibile entrare nel regno dei cieli. E le caratteristiche appunto dei bambini sono quelle della semplicità e quello del chiedere, ma soprattutto quello dello stupore. Allora Gesù ci invita a riprendere in mano quello che è la gioia dello stupore. Prima delle vacanze della Santa Pasqua abbiamo deciso assieme, quando lei mi ha parlato, proprio di invitarlo con tutto il cuore per parlare e di annunciare ai bambini le sette opere di misericordia corporale in modo tale che anche loro assieme al Catechismo possono crescere, andare avanti ed essere nuovi educatori nella feda. In fondo Preside alcuni principi della Chiesa sono anche applicati nella scuola, l'inclusione, la solidarietà e la collaborazione, quindi sono principi assolutamente condivisi. Beh è quello che dicevo poco fa, non si parla qua di religione, si parla di principi che sono anche i principi sanciti dalla nostra Costituzione. Se la scuola perde questa sfida, perde un'intera società. Ecco perché per noi è importante questo incontro, è importante perché il messaggio costante all'interno di una scuola, come diceva bene lei, è quello dell'inclusione. Un tempo si parlava di inclusione solo prospettando i diversamente abili. L'inclusione vale per tutti.